Siamo con il ristorante Joghiza. Joghiza, prodotto di tutto, Joghiza, sì. Scusate, pronti, vedo un splendido special, sì, oggi abbiamo preparato bene. Eccellenza, avete preparato. Quali tipologie di piatti preparate in questo ristorante? Ma tutto, noi prepariamo proprio tutto, da pesce, carne, anche pizze, pasta, tutto, perché, sai com'è, a vivere tutto perché la gente cerca tutto adesso e più cose che hai, meglio è, no? Certo, certo, bisogna generalizzarsi, no? E il pesce a spada come lo avete preparato? No, non abbiamo fatto niente, abbiamo solo fatto il carpaccio di pesce a spada perché è il più buono, perché sennò è un problema fare il pesce così grande, puoi fare qualche pistega, però è meglio fare il carpaccio perché è buono, è molto più buono così, no? Insomma, anche abbiamo preparato un po' di agrumi con olio, con erbo e luisa dentro perché deve essere un po' di freschezza. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti